Inspiegabile per il presidente di TUA Gianfranco Giuliante l'atteggiamento dei sindacati che hanno di fatto bloccato le assunzioni a TUA. I sindacati contestano la volontà di assumere, nonostante, dicano i vertici dell'azienda, siano state eseguite pedissequamente le indicazioni sottoscritte dagli stessi sindacati a giugno, proprio per poter procedere alle assunzioni. Quali saranno ora le conseguenze e soprattutto quali le posizioni? Una polemica che lei considera strumentale in quali termini? Beh, li considero strumentali perché noi abbiamo pronto il bando per assumere gli interinali. Li assumiamo secondo le previsioni di un accordo fatto con i sindacati. Avendo la possibilità di assumere gli interinali, perché la legge ce lo consente, noi decidiamo di trasformare questi interinali in lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'azienda allo stesso costo con il quale noi sostanzialmente potremmo assumere gli interinali. Questo erano i termini dell'accordo, così stiamo agendo, il secondo bando è pronto ed è questo, non riusciamo a pubblicarlo perché i sindacati si stanno mettendo di traverso. L'azienda ha preso atto di questa lungaggine e proprio a dimostrazione di come ci relazionavamo con i nostri dipendenti ha deciso di pagare in proprio come ha già pagato la quiescenza ai lavoratori che sono andati in pensione. Quindi è la dimostrazione intanto di una forza finanziaria notevole e secondo che noi lavoriamo in funzione di quelle che sono le esigenze dei lavoratori laddove è possibile, perché ci sembrava ingiusto che la burocrazia dell'Inps e quelle che erano i regolamenti delle banche facessero rimanere questi lavoratori senza la liquidazione del contratto di fine lavoro.